Benvenuti in questo video, io sono Genova5 e siamo su Cooking Craze sperando mi stai ragionando bene il video perchè sennò tiro delle cose tiro delle cose perchè non è possibile non vorrei registrare il video e farvi vedere il nuovo ingrediente o i nuovi ingredienti perchè sono due e sarebbero più a caro adesso che vediamo insieme vorrei fare il video adesso perchè almeno sblocchiamo le novità insieme e ora giornate a scuola almeno come giovani siamo un po' in anticipo però potrei provarla questa modalità potrei provarla tanto rimane lì per 7 giorni, una settimana una settimana potrei provarla, tanto arriveremo fino al livello 99 penso e poi c'è il nuovo ingrediente quindi ci fermiamo lì ci fermerò lì con i progress livelli e poi vi farò vedere il 99 spero che siamo al 90 quindi godiamoci il 90 adesso 40.000 monete ok devo abituarmi a fare anche qualche punticino perchè oggi almeno non faccio più punti per le monete però siamo abbastanza bene messi bene quindi vedremo adesso il negozio 69 com'è da fare a tempo e a tempo è brutto i livelli a tempo sono odiosi il piatto è basso, questo è bellissimo quello dei piatti è più bello perchè devi avanzare con i piatti e fai più punteggio vediamo cosa sblocca cos'è quella roba lì aspetta provo a indovinare la padella è per quella roba lì quindi penso sia una sorta di di pancake al al mirtillo una cosa del genere dolce e mirtilli ecco non è un pancake però dolce e mirtilli vabbè anche se il pancake è dolce quindi non lo so ditemelo nei commenti perchè insomma è un dolce la padella per il dolce ok quindi io ve lo cito subito invito di 5 secondi ne fa 1 ne fa 2 in 3 secondi 12.000 costa costa un po' tanto potenziamo che ogni 2 secondi ne fa 3 proviamoci invece la roba dolce dolce e mirtilli lo terrei a livello 1 perchè almeno lo vediamo a livello 1 com'è perchè ogni livello vi dico subito non so se l'avete visto nei scorsi episodi ogni livello che fa cambia l'aspetto del prodotto quindi dopo vedremo un nuovo prodotto in maniera diversa vabbè proviamo 89 sperando che mi stia registrando bene il video se non mi tocca rifare il video ed è brutto quando devo rifare il video perchè dopo perdiamo il progresso che ho fatto nello scorso video che non ho registrato ah qua si prepara ok fai le altre cose nel frattempo ok ah me le prepara direttamente così ah me lo stai dicendo proprio così ho svegliato quanti secondi mi dai da pochi secondi ce la farò mai è troppo difficile questo livello e ho già perso una vita quindi considerate che ne perderemo altre solo su questo livello potrei farvi l'altro livello e questo qua farlo off camera però vi devo farvi vedere anche questi livelli che sono difficili e dovete capire che ci metto tanto a farli perchè sono difficili ok 512 ok ce l'ho fatta ce l'ho fatta miracolo miracolo un livello tempo è stato fatto miracolo non le farò mai più una cosa di genere adesso pubblicità occulta Atletiche Bologna Baseball giocano a Baseball a Bologna ok va bene fammi uscire di qua vabbè e giocano a Baseball a Bologna quindi va bene se volete giocare nella squadra di Baseball di Bologna giocateci sempre se siete vicini perchè siete lontani fate un po' fatica ad andarci a fare le partite poi potrebbe anche essere la trasferta quindi forse dovete andare neanche lontano dimmi che l'89 due potenziamoci le monete vi so che possiamo farlo oh diventa molto più bello così 11.000 il prossimo prossimo e dopo finisco le monete praticamente quindi mi racconti due prodotti da potenziare quindi non so quanto costino eh ma devo farmi qualche livello extra perchè se no non riesco ad arrivare con le monete lo farò per voi eh lo farò per voi se l'89 non c'è tempo non è a tempo grazie 890 monete e non bruciare niente non è a tempo quanti clienti mi dai? solo 6? solo 6? pochi ma che non mi dai tante ordinazioni per cliente che bello il dolce ammettillo ok non ho bruciato niente per fortuna e non ce l'ho fatta potrei usare un client in più però non vorrei utilizzarlo perchè magari mi serve per un altro livello e gioca proviamo certo un livello ve l'ho fatto vedere quindi è andata anche bene perchè è un livello a tempo questo mi da pochi clienti per questo è un problema difficile perchè di avere fortuna se devo dire delle cose che costano tanto ogni volta per scegliere quelle che cose lì ho sbagliato niente ho sbagliato lo so che perdo la vita però non posso farci niente se sbaglio se clienti basta quindi se sbaglio mi tocca rifare tutto adesso andiamo a potenziare l'ingrediente secondo me mi sto registrando bene il video 11.000 costa va a 19 di prezzo che secondo me ci sarà utile perchè secondo me devo avere della cosa che costa tanto se noi clienti non sborsano soldi e non facciamo niente se poi non mi registro il video ve lo registro con le vite illimitate se almeno vi faccio vedere la novità insieme a voi ma mi dovrebbe registrare il video ho bruciato mi sono dimenticato di quello lì acceso beh usiamo un'altra vita a questo punto usiamo un'altra vita l'ultima che mi è rimasta quanto pare quando va così le partite non si può fare niente potevo evitare di bruciare però quando è veloce veloce eh devi ordinare roba costosa cosa ordini? ah quello no non ce l'ho fatta se faccio un client in più sicuramente non ci arrivo lo stesso perchè è troppo poco non ci arriverei comunque ho finito le vite? si ho finito le vite vabbè dai finisce qua l'episodio perchè se no se io qua avrei altre vite se andiamo qua nel nelle ricompense del passo ho 30 vite limitate ho 10 minuti di quello lì che mi mi serve automaticamente ma non mi serve in questo livello e 10 di anti bruciatura quindi avrei già le altre cose da fare quindi se in caso non registro il video non lo vedrete questa parte e vi registro il video con le vite limitate perchè devo registrarvelo il video anche perchè le vite limitate finiscono quindi la prossima settimana secondo me devo utilizzarle almeno la prossima settimana se no non mi scadono almeno che mi li dia automaticamente lui quando scade il passo quindi non lo so questo non lo so non me lo ricordo più che altro va bene dai abbiamo fatto un livello e un livello l'abbiamo fatto quindi abbiamo anche potenziato i numeri di ente che questo qua ve lo faccio rivedere per chi non l'avete visto tutto il video anche se lo aveste vedere tutto il video ho sbocato 12 mirtilli adesso va a 19 moneta quindi costa tanto rispetto al pezzo iniziale che era 8 monete mi sembra se non mi ricordo guardateci le basse che indiettigiate nel video e vedete quando ho speso i potenziamenti quindi vedete quanto costava all'inizio padella per il dolce me ne serve 3 ogni 2 secondi quindi molto veloce quindi neanche un secondo in meno rispetto ad uno al secondo quindi ancora più veloce adesso ho poche monete quindi adesso andrò andrò a fare anche nel prossimo episodio voi vedrete adesso vi faccio vedere cosa vedrete il nuovo ingrediente sperando di riuscire ad arrivarci ok questo è il 107 questo è il 99 quindi il prossimo è il 99 quindi quindi io arriverò fino al livello 99 senza fare il 99 perchè dopo appena entro nel livello o nel ristorante mi fa vedere la novità quindi devo vedere insieme a voi e reggere insieme a voi la novità al nuovo ingrediente o al nuovo utilizzo e poi farò qualche livello extra di quelli rosa questi qua vi faccio vedere quali sono che spuntano a caso perchè spuntano a caso questi qua rosa vedete questi rosa 42 rosa e qualche livello di questi qua di questi ristoranti da andare senza limite resistere il più possibile cioè c'è un limite però è molto lontano quindi puoi faticare con il limite finale quindi dai io spero che il video vi sia piaciuto è durato abbastanza ho spiegato le vite però per voi faccio questo e altro proverò off camera a farmi il 89 e andare avanti a fare fino al 99 per trocarvi il nuovo ingrediente e a vederli a voi nel prossimo episodio quindi datemi il vostro commento la vostra opinione riguardo a cosa sto facendo io vi sto lasciando tanti video di fila perchè voglio registrarveli tutti così avete tutti i video pronti così se per caso non sto bene almeno avete il video qui che potete vedere perchè tanto io l'ho già registrato like per lasciare il vostro supporto condividete, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video a presto